Nuovo pass in arrivo su Squadbusters, oggi lo andremo a vedere in anteprima con tutto quello che ci sarà dentro, eccolo qua ragazzi Partiamo subito, vi mostro quello che c'è dentro al pass, quanto costa e le ricompense assurde che arriveranno a partire da domani 1 ottobre Quindi partiamo subito e si gode, eccoci qua ragazzi Come prima ricompensa ovviamente abbiamo le evoluzioni Superpass che costerà come al solito 12€ Quindi il prezzo dovrebbe rimanere costante come già dagli scorsi pass Come prima ricompensa 4000 di gold e adesso arrivano le nuove ricompense Esattamente ragazzi 20 stelline Ce ne dovrebbero essere un totale di 500 in tutto il pass ma adesso andiamo a controllare E come prima ricompensa del pass a pagamento abbiamo una bellissima evoluzione Super che ormai hanno perso un po' di valore Quindi trovare un'evoluzione Super non è che sia così assurdo ma ci sta Il pass durerà 36 giorni quindi strano ma in realtà credo che durerà comunque un mese preciso, l'1 novembre dovremmo avere il nuovissimo pass Quindi perfetto e continuiamo perché ci sono tante ricompense Abbiamo 30 ticket poi 100 ticket nel pass a pagamento 100 di stelle nel pass a pagamento 10 nel pass gratis e 80 ticket Poi abbiamo ragazzi prima skin Skin del barbaro Ok skin del barbaro, skin scheletrico La prima di 3 skin ragazzi ci saranno 3 skin dentro il pass Di cui una gratis e 2 pagamento adesso lo andiamo a vedere Skin del barbaro con l'emoticon inclusa Skin di rarità silver come vediamo qua Quindi una skin che non ha troppi effetti ma che comunque è davvero bella E forse è la skin più bella del barbarian king Si è davvero figa come skin Poi abbiamo un per 3 sopra 20 ticket, 50 stelline Un baule per 4 e poi mi sembra 2000 di gold Ma continuiamo perché questo pass è bello bello interessante A livello 8 invece ragazzi abbiamo 50 ticket e ben 20 stelline E si continua così poi altri 20 stelline 10.000 di gold E arriviamo alla seconda skin A livello 10 abbiamo già una skin quindi al quinto livello Poi al decimo livello e poi al quindicesimo Decimo livello abbiamo la skin di colt Questa volta una skin non troppo figa Infatti abbiamo la skin sempre comunque nel pass a pagamento Quindi doppia skin Però è una skin di rarità comune Infatti non ha nemmeno l'emoticon E non ha nemmeno troppi effetti Quindi è solamente una skin per colt Che comunque ritengo abbastanza interessante Sia graficamente sia come render Quindi non è affatto male E poi nella parte creduita abbiamo 10 stelline In breve ragazzi con ogni pass noi possiamo ottenerci un bel bauletto Da 500 gratis Dei bauli stellari Continuiamo perché poi abbiamo un moltiplicatore per 2 50 stelline 30 ticket 60 ticket E si continua così Questo pass spacca Per me è davvero figo Poi 2000 di gold 1 per 4 30 stelline 50 stelline 10 ticket di nuovo nella zona gratuita Ticket comunque ci sono sempre Ce ne dovrebbero essere 600 1 per 3 10 stelline 11.000 di gold 20 ticket 30 stelline Per arrivare poi un totale di 500 Questo dovrebbe essere il numero Altre 20 stelline 50 ticket In totale 600 E arriviamo alla parte più bella Una skin gratis per tutti Di nuovo A livello 20 Questa volta non al 15 Mi sono sbagliato Abbiamo una skin Che non è più di rarità gold Anche se nel trailer Pam doveva essere di rarità gold Comunque abbiamo una skin gratis per tutti Livello 20 Pam Busters Che è una skin ragazzi A parere mio Davvero Davvero Con i fiocchi Una bella skin Che merita Di Eh ci si sta Ci sta L'avrei fatta pure più bellina Magari con qualche effetto Dopo vi mostro Queste tre skin nel dettaglio All'interno del gioco Quindi sintonizzati Un bel like Iscrizione per altri contenuti Sempre belli precisi Che vi da solamente Chiri in Italia Abbiamo 10 ticket 40 stelline Poi 1000 di gold 60 altri ticket E si continua Con ben 40 stelline in totale 10 gratis E 30 a pagamento Nella parte gratuita Altri 30 ticket E si continua In questo modo Ci sono tanti per 3 Tanti per 4 E tanti per 2 I per 4 ci sono Soprattutto nella parte a pagamento Le stelline sono state aggiunte Ce ne sono davvero tante 20 nella parte gratis Altri 50 nella parte a pagamento 30 ticket Un altro per 3 50 nella parte gratis Di stelle 100 ticket E il pass dovrebbe essere Di 30 livelli Adesso controlliamo Infatti abbiamo qua la cassettina 12.000 di gold E arriviamo all'ultimo livello Con 4.000 di gold E un totale di 100 star E poi avere la pignatta Che rimane comunque Come zona finale Per accumulare Quando è già finito Tutto quanto Cosa ne penso? Sembra essere un pass migliore Non è affatto male Il super pass comunque 12 euro Ti dà 2 skin Una cosa che un po' mi dispiace Sarò sincero E che hanno tolto le statue gold Sarebbe stata bella Una bella statua In stile Halloween Magari una bella zucchettina Gold Cioè ci voleva ragazzi Se no io non potrò mai finire La mia collezione gold Questo mi fa un po' Rosicare Eccoci qua con una vista Più dettagliata Del barbarian king E della sua skin Molto bella ragazzi Il senza testa Si chiama Skin silver Anche se qua dice che è gold Vabbè ragazzi Stanno sballando Con queste rarità delle skin Ragazzi è bellissima Rispetto all'origami skin Del big up È forse una delle skin Più belle Esteticamente ci vale Davvero figa Davvero figa Merita un botto Mi gusta Bella Una bella skin Per il mio work on botto Passiamo alla seconda skin Questa volta Sempre per il nostro colt Anche questa qui Werewolf Non so che cos'è Vabbè Lupo mannaro Dovrebbe essere Solo che anche questa skin Ragazzi Dove essere gold Ma invece Eccola qua È comune per giunta Comune A me piace Sarò sincero È una skin Che mi piace Per essere nel past Doppia skin Prima volta che abbiamo Doppia skin No Sì Prima volta abbiamo Doppia skin a pagamento E tre skin in totale Quindi Supercell Gli piace dare tante skin Vabbè comunque Ne hanno tante Quindi ci sta Come ultima Ma non per importanza Abbiamo la nostra carissima Pam Che ci mostra Una skin bella La skin di Pam Busters Forse è la più carina È molto bella Una bella skin Che ci sta sia col nome Sia col gioco Una skin che vale Che anche qui doveva essere gold Ma alla fine l'hanno resa comune Così Non so perché Non si capisce ancora bene Come vogliono far funzionare Le rarità Dentro questo gioco Ma va bene così ragazzi Non facciamoci domande Skin di Pam Busters Che c'è È carina Funziona Ditemela vostra nei commenti E shopperete il pass Ma eccoci adesso Dentro Squad Busters Oggi sono arrivate Delle notizie ragazzi Infatti abbiamo qua Un pacchetto di skin Squadra robot Alla riscosta Un pacchetto di skin Che costa 10 euro Invece di costare 17 euro Che io mi voglio shoppare Però in un altro video Non lo shoppiamo qua Poi lasciate un like Se volete che shoppo Questo pack Questo pack Che comunque so 10 euro Belle skin Perché skin so belle Bisogna vedere Bisogna vedere ragazzi Perché poi domani Arriva pure il pass Bisogna gestire bene i soldi Perché qua poi volano Facciamoci un'altra partidina Perché da domani ragazzi L'1 ottobre Appena arriva l'1 ottobre Mancheranno esattamente Due settimane Al nuovo aggiornamento Ma voi vi rendete conto Cioè tra due settimane Quando voi vedete questo video Praticamente già so passate È arrivato il momento Di iniziare a contare Ragazzi due settimane Io pubblico il video Adesso che è il 30 settembre Ragazzi 1 ottobre Mancheranno due settimane Al nuovo aggiornamento Tutto Fantastico Pieno di aggiunte Pieno di contenuti Un bel aggiornamento ragazzi Bisogna Bisogna ammetterlo Uno di quegli aggiornamenti Che sì Sì Ti cambiano Ti cambiano Ti cambiano il gioco Tanto Rivoluzione clan Aggiunte di nuovi personaggi Nuova mappa E ci sta Ci sta E avverrà ovviamente Il 14 Prima di Halloween Perché ad Halloween ragazzi Dovranno aggiungere Credo già tutti i contenuti prima Interessante il fatto Che hanno messo le skin Dei Transformers solo ora Non capisco il perché Perché comunque il film È già uscito da un po' E magari le skin Le potevano mettere fin dall'inizio Farle durare un mesetto Però vabbè Ragazzi noi non facciamoci domande E vabbè Non facciamoci domande Siamo quarti al momento ragazzi Io Io Andrei centrale Sarò sincero Ma ne andrei centrale Vi ricordo ragazzi Andarmi a seguire su Twitch Criatino basso live Mi raccomando Fondamentale Distruggiamo sti bot Un attimo Siamo sesti ragazzi Male 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 Cassettina Bella arcerina qua Che male non fa Distruggiamo quest'altro tronco L'alberello di Gregone nazionale Cassettina pure qui Altra volta con Gregone Distruggiamo tutto ragazzi Distruggiamo tutto quanto Perfetto Andiamo giù Rompiamo il bot Ottimo Cassettina Cassettina Goblin Saliamo di nuovo Andiamo di esperta di carro armati Ottimo Ragazzi siamo terzi ragazzi Non so come perché c'è la modalità con le gemmone gigante al centro Si gode Fammi distruggere i bot Fermo un attimo Fammi distruggere tutti i bot Ottimo Qua c'è un altro ragazzi Qua c'è un altro Fermi tutti ragazzi Fermi tutti Cau giù Cau giù Fammi spostare Ottimo Distruggiamo qui Perfetto Quindi ragazzi Fermi tutti Fermi tutti Distruggiamo quest'albero Cassettina Arcerina Ottimo Si vola ragazzi si vola Se riusciamo a distruggere sto cau giù Prima che ci devasta Lui che fa salti ogni 5 secondi Ok Buono Onestissimo ragazzi Onestissimo Bello Freschissimo Perfetto Cassettina qua No 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 bro Però fatti una vita No no Perché Cosa ti ho dato io Ho capito che ho 114 gemme Adesso ne ho perse 10 Anzi 8 Cannonino Cassa di Dynamite Che male non fa ragazzi Male non fa Perfetto Distruggiamo l'albero Ottimo Pichiamoci le gemme Zitti zitti ragazzi Noi ci rubiamo tutto Emotina Adesso l'emotium vero Ma peccato ragazzi Mannaggia che non sono riuscito A ottenere tutte le modicon Dell'evento dei Transformers Perché? Ma perché ragazzi È un evento disumano Io non è che posso giocare Tutto il giorno a Squadbusters Con tutto il rispetto Però non lo riesco a finire Quell'evento Quindi sì Quelle modicon sono per chi Per chi gioca tutto il giorno A Squadbusters Io non l'ho potuto ottenere ragazzi Non l'ho potuto ottenere Solo due Due dell'evento di Optimus Prime Ce l'ho fatta Ma poi ho detto Ragazzi Poi per fare era infattibile A un certo punto diventava infattibile Poi dovevi pure shoppare Quindi ho detto Vabbè no Va bene così Si può giocare anche senza Dai Senza due o tre modicon Ne farò a meno Perfetto No Ok grazie Vammi scappare un attimo Non ci tengo a morire Siamo primi No adesso no Perché mi hanno distrutto Sti cannoni ragazzi Vammi scappare Dai non vuoi Non ci tengo Ok Mettiamo due cose Ci grilliamo degli alberelli Anzi no vabbè Non so cosa è successo ragazzi Doppia mina Doppia bomba Possiamo campare pure così Anche se tra poco esplode No esplode al centro ragazzi Esplode al centro Io rimango fregato Rimango fregato Se non vado subito al centro Ecco qua Infatti Guarda qui Spè 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 Che tra 5 secondi Dovrebbe esplodere tutto Sperando che Me ne vada Sì però Ma perché mi devono killare A me i personaggi Che io non faccio niente Va bene Cassettina Tomatore di cinghiali Ottimo 3 2 1 Easy ragazzi Io ho pure killato un personaggio All'ultimo secondo Magari l'ho fatto perdere per questo Non lo so Domani ragazzi Video tour della mia postazione Comunque Bene Non era il primo game del giorno Com'è possibile? Vabbè facciamoci domande Noi ci prendiamo le gemme 162 di win streak E si gode Cassettina comune Che è epica ragazzi Cassettina epica Zitti Zitti 4 streghe Vabbè 4 streghe Va bene Missioncina Me la riscatto Strega la potenziamo Bene ragazzi Attenzione Prossimo video Si fa Altro potenziamento da fare Per la strega Perfetto Qua ragazzi abbiamo da Abbiamo da sbloccare il nuovo baule Non lo faremo oggi Lo faremo prossimamente Quindi rimanete sintonizzati Detto ciò ragazzi Spero che questo vi sia piaciuto Un bel like Iscrizione Campanile Volevi dei video Che sono appena partiti Che sono più bello dell'altro Fate l'abbonamento Per supportarmi E ci vediamo in un prossimo video Di squadbusters Ciao ciao